bentornati a su run calls questa volta puntata speciale che si innesta nel ciclo del della nostra serie stupidità artificiale e questa volta parleremo di etica insieme etica e intelligenza artificiale col professor alberto finz alberto grazie per essere intervenuto buonasera alberto professore associato di informatica presso l'università di napoli docente di robotica intelligente ricercatore di intelligenza artificiale e robotica a lui chiedo subito intanto di dare una sua definizione di un sistema di intelligenza artificiale e poi di argomentare quello che abbiamo definito anche nelle puntate con claudio castellini l'etica esterna cioè la governance dell'intelligenza artificiale e le criticità che si accompagna a te va bene grazie per l'introduzione innanzitutto veniamo subito al problema definizionale no perché nel momento in cui c'è bisogno di governare il sistema legiferare sul sistema occorre dare delle definizioni e le definizioni che circolano a livello diciamo internazionale cercano di essere abbastanza lasche perché da un certo punto di vista si vuole mantenere aperta la possibilità di rappresentare anche sistemi che verranno nel futuro e nello stesso tempo però si cerca di circoscrivere un minimo allora lei è una disciplina innanzitutto quindi un sistema di intelligenza artificiale è un sistema che si avvale dei metodi e dei modelli di questa disciplina una disciplina che studia agenti intelligenti che sono dotati di capacità cognitive normalmente attribuibili agli esseri umani come ragionamento rappresentazione della conoscenza apprendimento problem solving pianificazione e machine learning e qui veniamo diciamo al punto critico perché nelle attuali interessi generale pubblico sull'intelligenza artificiale quello che più affascina e spaventa sono proprio le capacità di apprendimento automatico e quindi di progressiva capacità di apprendere nuovi compiti che possono in qualche modo più o meno rimanere nella sfera del controllo sia diciamo di chi governa sia degli utenti e quindi c'è questa questo interesse soprattutto in questa fase attenzione che però l'intelligenza artificiale è una disciplina che nasce praticamente con la computer science con l'informatica cioè nasce negli anni 50 1956 è la data in cui nasce il termine artificial intelligence conferenza workshop a dartmouth college attribuito il termine a john mccarty e in quel e il termine è più antico addirittura della parola informatica e della parola computer science quindi stiamo parlando di una disciplina che ha un un diciamo una storia lunga ha attraversato grandi entusiasmi e attraversato anche due inverni famosi inverni dell'intelligenza artificiale che sono grandi delusioni adesso stiamo attraversando un periodo di grande entusiasmo ma anche di grande preoccupazione tutto questo avviene diciamo il take off diciamo di questa di questa nuovo interesse per la materia intorno agli anni 10 del 2000 quando tramite l'accumulo dei big data no per per internet che i grandi player no come google facebook amazon eccetera accumulano grandi dati hanno i grandi server i cluster no di server che possono elaborare dati la tecnologia permette perfettivamente di elaborarli da questa elaborazione di questi dati cominciano ad essere riutilizzate delle tecnologie che erano lasciate erano state lasciate un po in disparte come le reti neurali dip multistrato che erano una vecchia conoscenza degli ricercatori dell'intelligenza artificiale soltanto che finalmente con i big data sono state messe a lavorare sul mondo vero e invece che su diciamo giocattoli se vogliamo e hanno cominciato a dare dei frutti all'inizio diciamo abbastanza interessanti poi sempre più sorprendenti quindi si va dagli anni 10 in cui cominciano ad essere applicate queste reti a riconoscimento sulle immagini e hanno successo poi si cominciano ad applicare a problemi di natural language processing quindi linguaggio naturale e hanno successo poi ad apprendimento per rinforzo su giochi come atari go eccetera e ancora una volta hanno successo poi intorno al mille al 2018 comincia ad emergere una nuova tecnologia che fa fare un ulteriore salto e porta verso l'affermarsi di quelli che si chiamano l'AI generativa ed è questa AI generativa che sta creando grande entusiasmo e grande preoccupazione cioè è un AI che in qualche modo sulla base dei tanti dati che sono a disposizione attenzione che nel frattempo dagli anni 10 agli anni 20 anche i dati a disposizione per addestrare queste reti diventano sempre di più cioè c'è una crescita esponenziale sia delle capacità dei sistemi ma anche dei dati a disposizione per addestrare queste questo è un elemento da tenere presente perché c'è un ecosistema che accompagna poi lo sviluppo di queste di queste tecnologie che appunto si avvalgono esattamente di questa progressiva digitalizzazione questo va tenuto appunto a mente quindi queste AI generativa è quella che poi consente lo sviluppo di famosi large language model per esempio chat GPT dall'altra parte si creano i deep fake quindi la possibilità sulla base di esempi di creare ehm dei fake assolutamente verosimili anche a livello di video no? Riprendere e incorporare la personalità di personaggi famosi di politici eccetera e quindi ehm il questo sviluppo ha fatto sì che eh a livello mondiale eh sia aumentato anche esponenzialmente l'interesse e l'attenzione per questo tipo di tecnologia quindi quando si parla di sistema AI in realtà mh a livello attuale si si sta riferendo a soprattutto questi sistemi qui cioè questi sistemi di eh diciamo generative AI poi ovviamente si accompagna a questi anche gli altri sistemi in cosiddetta AI discriminativa che permette di classificare per esempio per capire se c'è qual profilare eccetera eccetera tutto questo anche molto importante però quello che eh soprattutto ha suscitato l'attenzione del legislatore del filosofo eccetera è soprattutto questo affermarsi di questi sistemi eh diciamo così eh generativi. Devo dire che ehm c'è eh grande attenzione perché effettivamente esistono dei problemi per questo tipo di tecnologia rispetto ad altre tecnologie in in AI. Allora in primo luogo esiste un problema di eh trasparenza di trasparenza perché eh questi modelli proprio perché hanno questa grande capacità di apprendere direttamente dai dati si dice un apprendimento end to end cioè io vado dal dato fino al prodotto finale tutto quello che c'è in mezzo dal punto di vista dell'ingegnere ma anche di chi controlla può effettivamente sfuggire di mano perché si crea internamente dei modelli dei modelli che rimangono assolutamente impliciti e quindi non perfettamente eh diciamo così indagabili e questo crea una serie di problematiche eh innanzitutto eh la predicibilità no di quello che può eh effettivamente fare il sistema cioè il sistema funziona bene ma eh quanto effettivamente continuerà a funzionare bene e il fatto che poi funzioni molto bene crea anche un problema di fiducia perché poi si tende anche se uno magari intellettualmente sa che non si deve fidare però se si vede che effettivamente continua a funzionare in modo convincente si tende a delegare un po' eh diciamo così eh responsabilità decisioni anche se questo eh in teoria può essere anche vietato dalla legislazione però poi il comportamento umano fa sì che inevitabilmente eh si tenda a ehm delegare sempre di più eh una serie di aspetti che invece rimangono assolutamente oscuri nei loro principi di funzionamento ok quindi questo preoccupa gli ingegneri perché non hanno diciamo così il controllo di quello che succederà effettivamente e eh quanto eh c'è garanzia sulla per esempio sulla safety di alcune decisioni su qual è la logica eh a cui eh diciamo si riferiscono veramente determinate eh decisioni finché siamo all'interno di un gioco va bene ma quando si tratta invece di situazioni critiche la situazione cambia assolutamente poi c'è un problema anche di trasparenza non soltanto dei modelli interni che vengono creati c'è un problema di trasparenza dei dati perché eh molti di questi grandi modelli infatti la problematica è soprattutto per i grandi modelli che vengono addestrati con tanti dati poi eh a volte non si sa neanche da dove vengono effettivamente questi dati perché possono essere presi no da una serie di repository eh che possono essere pubblici o non pubblici perché poi diventa difficile risalire a qual è la fonte che ha permesso il l'addestramento di queste e qui si lega anche il problema al problema di per esempio di tutela della privacy tutela del copyright sono tutte questioni magari legali che però sono eh molto importanti e anche eh la qualità del dato poi ha un impatto perché a seconda di quanto è buono il dato uno può avere più o meno un'idea eh di qual è eh il la qualità del del modello e poi c'è può essere dietro a questo opacità eh diciamo così intrinseca proprio della dell'addestramento del sistema si possono celare anche degli intenti malevoli perché proprio perché è opaco il sistema io potrei eh magari fare un training sulla base di finalità occulte che non vado a confessare però è anche difficile andare a scovare in qualche modo e quindi posso orientare anche il sistema in una certa direzione e questo è eh uno dei problemi appunto di queste tecnologie che sono legate al concetto eh di rete eh neurale il concetto che dicevo è molto conosciuto come modello eh dagli scienziati dagli ricercatori in intelligenza artificiale ma per molto tempo era stato guardato con sospetto proprio perché aveva queste caratteristiche di eh diciamo scarsa mh diciamo eh indagabilità ok quindi manteneva dentro di sé il modello d'altra parte quindi c'è grande ricerca per cercare di rendere spiegabile quello che fa il sistema ma attenzione che si può fare anche del training per far sì che il sistema dia delle spiegazioni in qualche modo false cioè io potrei per esempio addestrare un sistema a fare qualcosa di eh illecito discriminando no delle delle persone sulla base di un criterio ma poi spiegarlo in modo assolutamente pretestuoso inventando una scusa diversa ok cioè per esempio potrei dire che la polizia assicurativa di questo personaggio è maggiore di quella di un altro ma eh magari non per il motivo vero tirandone fuori un altro e questo il sistema è abbastanza plastico per poterlo fare quindi si presta quindi anche quando si parla di eh explainability come problema eh che risolverebbe il problema della trasparenza è vero fino a un certo punto perché si può anche fare in modo tale che la stessa spiegazione possa eh essere addestrata per essere polite politically correct conforme alla regola ma in realtà la vera spiegazione rimane comunque occultata ok questo è una allora eh e quindi è una problematica abbastanza eh importante l'altra problematica a cui mi riferivo prima è la problematica legata alla eh controllo cioè queste tecnologie nel momento proprio perché eh si basano su eh la riproduzione no del comportamento non soltanto della 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 del ragionamento eh quindi della capacità cognitiva umana ma anche il comportamento umano eh eh sono anche una delega ok una delega di intelligenza e eh infatti c'è il filosofo Floridi che parla dell'AI come una sorta di divorzio tra l'intelligenza umana cioè non una convergenza tra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale ma un divorzio perché alla fine quello che viene delegato all'intelligenza artificiale poi non viene espletato dall'intelligenza umana quindi diventano praticamente è una sorta di eh si delega e ci si fida e ci dovrebbe per esempio essere quello è un altro tema eh spesso dibattuto la capacità di eh poi riprenderlo questo controllo ok quindi la capacità di decidere quando delegare la decisione quando riprendersi questa questa decisione sul sul sistema e ma anche qui eh diventa difficile soprattutto se eh viene meno per esempio il tema precedente quello della trasparenza io potrei non sapere a che punto del processo decisionale riprendere il controllo oppure eh semplicemente proprio perché ho delegato eh questa eh responsabilità l'ho delegata perché mi avevo creato una mia fiducia nel sistema e poi eh alla fine anche se la responsabilità finale della decisione mia tendo comunque ad usare il sistema dandogli la la priorità immaginiamo un medico che si avvale per esempio di un sistema di diagnostica eh guidato da eh metodi di intelligenza artificiale e però eh poi ha il sospetto che la cosa sia diversa eh si prende la responsabilità ok di deviare rispetto al mainstream dettato dalla della macchina che eh si avvale no della conoscenza e dell'addestramento eccetera eccetera oppure eh per eh quieto vivere oppure semplicemente perché magari si fida della della macchina eh alla fine da eh si avvale del del risponso della macchina perché poi alla fine potrebbe anche dire che la responsabilità sì è mia però me l'aveva anche suggerito la macchina quindi tutto sommato eh diciamo non è così grande la responsabilità quindi il fatto di attribuire agli uomini la capacità cioè la responsabilità finale eh quando c'è sono di mezzo appunto questi questi sistemi eh non risolve in qualche modo il problema eh semplicemente lo sposta quantomeno almeno si eh quello che si cerca di fare a livello di legislazione appunto si cerca di evitare che poi questi processi eh automatici si chiudono su se stessi allora in quel caso uno perde completamente il controllo quindi eh rimane una una certa responsabilità poi c'è il problema eh ancora eh un altro problema importante che è quello del monitoraggio cioè avendo io queste ehm capacità di calcolo eh così ehm così importanti eh io posso per esempio utilizzarle per il monitoraggio e il tracciamento eh continuo dei dei eh dei appunto delle delle persone e degli utenti di di eh questo può succedere sia a parte che già sta succedendo no noi siamo nella nostra diciamo vita digitale è continuamente monitorata e profilata dall'altra parte appunto eh esistono strumenti per estendere questo monitoraggio anche alla vita reale no con i sistemi di biometria è vero che eh per esempio le I-Act no vieta eh alcune forme eh di ehm tracciamento soprattutto real time in ambiente pubblico eh però esistono tante eccezioni ok cioè ogni volta che c'è un pericolo eh ogni volta che c'è si si cerca di classificare eccetera però mh questo quando c'è una tecnologia che abilita una certa opportunità eh c'è sempre il pericolo che comunque eh questo tipo di ehm tecnologia venga magari eh per vie traverse utilizzata magari eh non si dichiara sì scusa sentite rompo eh mi mi inserisco perché per per raccogliere le due spunti che hai dato eh si sa che diciamo l'intervento normativo in qualsiasi ambito è sempre in ritardo rispetto all'esperienza perché ovviamente risponde a esigenze che emergono in fieri eh e al contempo la scienza opera a volte per errori eh sperimento errore questi due aspetti danno la sensazione applicati all'argomento che stiamo affrontando che si sia scoperti ma non si scoperti da un pericolo generico da un incidente ma da qualcosa che potrebbe essere molto più complesso molto più pericoloso sia per l'assenza di una tutela legale che non si può sapere nemmeno a cosa estendere perché è un ambito ancora tutto in divenire ma in ambito scientifico eh che tipo di consapevolezza c'è nell'ambito proprio della ricerca e che tipo di dialettica c'è tra chi svolge la ricerca e chi investe nella ricerca perché presumo che non ci sono interessi convergenti o ci sono delle c'è una criticità tra chi sta sviluppando questi sistemi tra chi studia questi sistemi e chi magari intravede in essi con grossi investimenti alle spalle determinate eh finalità utilizzi però ripeto end to end come dicevi che possono nascondere all'interno sorprese e inattese. Sì allora eh per quanto riguarda i livello di ricerca eh allora innanzitutto le legislazioni lasciano sempre eh comunque spazio alla ricerca come una sandbox no come dice dal punto di vista della ricerca finché non metti in opera il software ci fai ricerca quindi eh tu sei libero di fare eh più o meno quello che vuoi senza limiti quindi in un certo senso questo lascia un po' mh il eh il ricercatore un po' esterno no a queste dinamiche perché poi la legislazione va a insistere soprattutto quando si tratta di entrare eh nel mondo reale con un con un applicativo con un b con o a livello pubblico quindi di di ente pubblico che utilizza un determinato strumento oppure un un ente privato no che si avvale di questo di questo strumento quindi eh però ci sono alcuni campi per esempio di ricerca che sono stati che sono possono essere toccati molto di più per esempio chi si occupa di biometria no e di riconoscimento biometrico può essere ostacolato da questo altri invece sentono di meno questa questo impatto eh c'è eh comunque una generica preoccupazione eh per eh per contrastare eh appunto gli usi e gli abusi di questa tecnologia ma eh non non cioè si si è un po' allineati per esempio su quello che sta facendo il legislatore cioè supponendo che la legislazione possa effettivamente fare da scudo da questo punto di vista quindi una per esempio c'è entusiasmo per questo AI act europeo no che identifica alcune mh alcuni eh temi che assolutamente devono essere bannati quindi per alcune applicazioni AI vi viene considerato per esempio rischio inaccettabile inaccettabile sarebbe fare questo riconoscimento remoto di biometria con continuo monitoraggio oppure fare ecco l'altro tema lo social scoring quindi il mh il tema di eh effettivamente poter dare una profilazione un voto al comportamento del cittadino questo è qualcosa di gravissimo che si presta si 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 presta andiamo in direzioni orwelliane no come 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 possibilità ma la tecnologia purtroppo non solo lo abilita ma c'è una spinta verso la convergenza la digitalizzazione che rende sempre più facile il compito alle macchine perché nel momento in cui io ho una identità digitale in cui tutte le transazioni che faccio passano attraverso o qualche evento che lascia una traccia digitale qualunque cosa faccia mh ha eh un effetto in rete e può essere tracciato da uno o un operatore più o meno grande che possa essere pure lo stato eh oppure qualche altra organizzazione però alla fine tutti questi dati eh permettono in potenza di fare social scoring e attenzione che il social scoring già sta avvenendo in Cina e la cosa interessante è che la popolazione eh purtroppo non tutti eh sono contrari a questo perché si crea una sorta di gamificazione della vita pubblica e questo eh quando viene il punto quando si guadagnano punti è un reward ok e quando si perdono quindi diventa anche una sorta di gioco sociale che coinvolge le persone e non tutti sono eh lo considerano anzi eh si sta eh in alcuni casi si sta affermando eh come comportamento sociale particolarmente diciamo così interessante questo è una forma di manipolazione eh perché quando c'è il reward il reward poi insiste su una ricompensa anche sul sistema dopaminergico diventa una diction in qualche modo diventiamo animali ammaestrati che esatto esatto quindi il io la la legislazione europea lo vieta ok però in altre parti del mondo eh questa cosa si è affermata si sta affermando quanto questa diciamo strato di legislazione è una vera protezione cioè in generale mh dal punto di vista no del del ricercatore occidentale uno magari si fida del fatto che il legislatore possa effettivamente una volta scritto no come come principio possa poi eh rendere valida eh questa lettera però eh almeno questo è il mio punto di vista puramente personale quando c'è una possibilità e quando c'è un forte interesse eh per andare in una certa direzione la lettera rischia di diventare lettera morta perché per esempio una serie di cose già eh prevedono eh che sarebbero vietate come la polizia predittiva questa è un'altra cosa abbastanza dal punto di vista etico no abbastanza importante cioè io profilo una come minori di report no siamo veramente a livello del film quindi noi io posso profilare ehm sulla base dello storico no di di comportamento di una persona posso predire che farà degli atti eh magari ostili di un certo modo e posso magari metterlo sotto attenzione particolare eh cose di questo tipo eh dice sì sono vietate assolutamente sono bannate però esclusi casi particolari come potrebbero essere giustamente magari il terrorismo oppure altre cose però eh quando si comincia ad escludere no? Eh a creare dei casi sotto casi eccetera l'eccezione diventa sempre magari il eh l'occasione no? Per introdurre poi questo tipo queste forme di controllo cioè il fatto stesso che venga menzionata la polizia predittiva a me eh un po' mette eh un po' di agitazione no? Io magari preferivo addirittura che non fosse menzionata perché vuol dire che ci stanno pensando in qualche modo no? Che si stanno apprezzando in questa direzione quindi ehm sono tutte eh infatti queste tutto quello che eh eh di diventa è più pericoloso è eh soprattutto eh la potenzialità di queste tecnologie a livello di social scoring a livello di appunto di predizione a livello di tutto quello che può diventare una limitazione della libertà ehm in individuale perché eh eh è vero che eh però questo è un discorso che andrebbe fatto in modo più ampio perché molto spesso ci si concentra soltanto sull'AI come se fosse il mostro no? La super intelligenza che prende il controllo e eh come se ci trovassimo dentro eh odissea nello spazio no? Che che ha una intelligenza aliena che ci eh che ci blocca tutti e ci mette nel sacco eh però in realtà i veri pericoli vengono dall'uso umano di queste eh di questi strumenti e dalla loro opacità che cercavo di mettere in evidenza prima perché poi dietro la loro opacità si potrebbe anche nascondere beceramente qualche eh manipolazione proprio manuale qualche presenza eh addirittura uno dice l'ha detto l'algoritmo ma in realtà non l'ha detto l'algoritmo è una direttiva che era stata data e quindi magari ci sono anche delle backdoor no? Per poter aggirare l'algoritmo e fare in modo tale che la risposta poi vada in un certo senso tanto poi l'intelligenza artificiale eh ce l'ha un metodo per allucinare una risposta che sia più o meno plausibile per giustificare no? Eh si 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 allena anche per questo come ho detto prima quindi esiste anche questa questo a questa problematica quindi eh esiste eh si può intervenire si si può nascondere dietro l'intelligenza artificiale no? Esistono quelle tecnologie si chiamano del il turco no? Eh per esempio Amazon metteva a disposizione l'intelligenza umana mette a disposizione l'intelligenza umana per rispondere a dei task no? Quello che è il sistema Turk uno chiede di poter fare un task che richiede non l'intelligenza artificiale ma l'intelligenza umana si recluta qualcuno disponibile a risolvere quel task eh in rete quindi la la piattaforma rete mette a disposizione questa possibilità e quindi attraverso proprio non eh un agente artificiale ma un agente umano si mette a disposizione per risolvere un problema si chiama il Turk perché eh era eh riprende quella storia di quel eh giocatore meccanico di scacchi e che era appunto questo nel settecento era una macchina sembrava un giocatore in grado di giocare a scacchi in modo autonomo come se fosse un automa ma in realtà dentro c'era un giocatore vero che eh giocava eh e quindi muoveva i pezzi quindi l'inter la macchina sembrava da fuori eh una macchina ma in realtà dentro il giocatore era un'intelligenza umana quindi dietro l'opacità di un sistema eh diciamo così di questi grandi sistemi di intelligenza artificiale si può nascondere anche qualche malizia da questo punto di vista ok quindi ehm bisogna stare attenti a tutta una serie di cose che eh non tutte sono eh intercettabili dalla legislazione anzi bisogna dire che è un po' sospetto il fatto che eh tutti i grandi player di appunto che hanno interesse nell'ambito dell'intelligenza artificiale convergono a definire le regole del gioco in modo molto diciamo pressante perché eh perché possono mh in questa fase eh cercare di eh definirle in modo che sia abbastanza conveniente per per loro dal punto di vista per esempio etico no esistono una serie di eh attacchi se vogliamo eh che si chiamano per esempio ethical lobbying no io posso fare lobbying su tematiche etiche per cercare di ehm magari introdurre quelle regole che fanno il il caso mio ma e magari mi eh rendono più difficile a qualche competitor entrare nel mercato quindi eh per esempio una legislazione molto articolata che richiede tanto eh a qualcuno eh per entrare in un certo mercato è un freno no per per i nuovi e rende invece più stabile la posizione di chi è già forte oppure esiste quello che si chiama blue washing eh che è l'equivalente del green washing cioè darsi una parvenza di eticità no facendo svendendo delle pratiche come se fossero veramente etiche ma in realtà lo sono solo in apparenza e e invece diciamo si continuano ad avere comportamenti come erano quelli quelli precedenti quindi per esempio ma si fa finta di rispettare non so la privacy di utilizzare fonti di dato per l'addestramento che siano quelle corrette di rispettare tutta una serie di regole ehm eh oppure si dà una parvenza di di politically correct assolutamente inoppugnabile no però eh dall'altra parte eh invece per alcuni temi eh si mette si introduce il bias che interessa magari interessa che che si compri no io quindi posso essere assolutamente politically correct sui temi neutri no quindi tutto quello che il bene dell'umanità eccetera e poi magari utilizzo delle tecniche per stimolare a comprare e vendere un determinato prodotto eh sfruttando magari delle debolezze eh questo è vietato sulla carta no c'è scritto anche nelle AI Act che è vietato fare una cosa del genere ma diventa abbastanza difficile con i modelli così addestrati andare a risalire se veramente c'è una capacità di manipolazione eh in quel in quel verso o in quell'altro e poi ci possono essere anche problemi a fin di bene magari uno vuole eh veramente eh fare addestrare un modello eh che sia perfettamente politically correct eccetera eccetera però per farlo magari sovrascrive dei dati e che invece direbbero qualcosato cioè io voglio che ci sia eh assolutamente la parità tra gli alti e i bassi no facciamo per non creare nessun tipo di però eh dico pure i pelati come me e quelli che hanno i capelli come te eh però se poi i dati dicono che non so i i pelati eh per c'è un un piccolo bias chissà magari eh dovuto ad altro no che mh eh si si cerca di cancellare questo bias e magari si crea un effetto su un'altra decisione che invece è importante quindi mh per dire sì sì a volte ehm concentrarsi molto su alcuni temi no che sono molto interessanti dal punto di vista che creano attenzione dal punto di vista del poi della correttezza politica no il discorso del del razzismo il discorso del del dei dei sessi queste cose qui eh però poi fa sì che i dati vengono addestrati appositamente per non far nascere queste cose però anche quello è un bias ok e quindi su quei temi può anche andar bene ma poi il corregimi per per definire bias è un percorso logico che dà che porta un determinata sarebbe un'influenza un'influenza esatto il bias sarebbe una eh una un'inclinazione sto inclinando eh il sistema lo sto ipercorreggendo questa ipercorrezione del dato che magari eh è in è finalizzata a cancellare qualcosa che può essere disturbante per qualcuno poi alla fine potrebbe avere invece un effetto eh sistemico su un altro tipo di situazione perché questi poi sono sono sistemi che ehm si addestrano con dei pesi no questi pesi eh poi hanno un effetto sistemico globale non è soltanto su una non posso isolare un un fatto e poi non avere un effetto anche sull'altro sto in qualche modo inclinando il sistema secondo eh dei parametri che non sono quelli naturali quindi non l'ha trovati nel dato nel dato magari il il si tendeva ad andare in una certa direzione però alcune risposte erano disturbanti perché emergeva che ne so che facevano una clusterizzazione eh quindi un raggruppamento no di qualche gruppo eh particolarmente sensibile a una certa tematica ma allora per cancellare quella cosa lì eh si riaddestra il sistema introducendo un correttivo però quel correttivo poi ha un effetto sistemico e questo attenzione che è qualcosa che che purtroppo eh si fa continuamente no altro tema no eh sistemi AI addestrati per cercare le fake news ok benissimo però cos'è una fake news no cioè come come si si come si fa a stabilire chi cioè non è il sistema che sa cos'è una fake news gli si danno degli esempi e allora a seconda di chi fornisce questi esempi poi noi andiamo a trovare dei sistemi che sono addestrati magari per censurare qualcosa che esce da una certa eh direzione perché semplicemente non ha trovato quell'esempio e quindi viene considerato un'anomalia e e quindi mh tutto questo questi sistemi che si addestrano sui dati massivi finiscono inevitabilmente per portare da una parte a grande potenzialità di conoscenza ma una conoscenza media perché eh si basa proprio su mediare tanta tanta informazione ok quindi e quando si vogliono introdurre dei correttivi etici e si utilizza magari un'etica di senso comune che finisce per essere una una sorta di puritanesimo intrinseco alla alla macchina che però finché magari non ti da non ti genera una risposta va bene ma se invece diventa un momento di censura e di segnalazione addirittura di anomalia e diventi vieni messo magari sulla lista nera oppure associato a quel problema precedentemente evocato del social scoring uno si ritrova magari ad avere uno score basso semplicemente perché ehm ha delle magari eh posizioni originali neanche pericolose no per per il sistema eh di questo tipo quindi divergenti sì esatto divergenti e questo è abbastanza abbastanza diciamo così inquietante ripeto quello che è eh può essere mh la eh la tecnologia come al solito è neutra quello che è è importante è poi l'uso che viene fatto di questa tecnologia siccome eh c'è da una parte eh il la paura dei eh di che qualcosa sfugga di mano da questo punto di vista quindi c'è una tendenza a regolamentare c'è una tendenza ad introdurre dei correttivi questa questa questo può portare a eh un vincolo ok che che viene introdotto eh con queste tecnologie quindi può portare effettivamente a una restrizione eh di eh alcune alcune libertà quindi apparentemente eh noi eh abbiamo più strumenti magari è più veloce fare determinate cose eccetera eccetera ma nel momento in cui siamo profilati nel momento in cui c'è questa possibilità di fare questo tracciamento eh possono aumentare i rischi eh di eh un uso eh finalizzato di questa tecnologia ok e può avvenire o dagli enti governativi quindi chi ha potere di farlo oppure direttamente dai big corporate big tech che eh possono anche lì essere alleati dei sistemi appunto dei dei grandi eh governi oppure eh oppure e quindi eh agire eh in in modo eh diciamo così sinergico eh rispetto a loro questa è una problematica che riguarda l'AI e soprattutto credo che la caratteristica fondamentale di questi sistemi è proprio l'opacità e che permette di nascondere dietro una serie di interessi non dichiarati e dall'altra parte però è anche eh il frutto della di questa eh convergenza digitale di cui parlavo all'inizio perché perché come dicevo l'AI e eh il l'ecosistema digitale in cui nasce questa nuova AI eh quella che appunto mette entusiasmo e preoccupazione eh sono è un un è una zona di convergenza in cui le nostre vite vengono sempre più diciamo immerse in un mondo digitale. Il mondo digitale come dice anche il filosofo Floridi è un mondo adatto alle macchine cioè lì eh la macchina infatti evolve quindi i sistemi si alimentano di sempre maggiori dati la produzione di testi che noi abbiamo mettiamo a disposizione di questi grandi cluster che mettiamo in rete eccetera ormai eh è enorme quasi tutta la produzione ha un suo equivalente no digitale cioè il eh la vita sta avendo un suo equivalente digitale e questo fa sì che si crei un mondo più adatto alle macchine che agli uomini e eh gli uomini potrebbero doversi a quel punto adattare ai vincoli della macchina cioè immaginiamo adesso parliamo di questa per esempio eh cose che non riguardano il digitale ma proprio il reale la macchina autonoma ok questo è qualcosa vicino io mi occupo di AI e robotica quindi la macchina autonoma eh dovrebbe in teoria eh permettere alla macchina di navigare in ambienti che sono quelli antropomorfizzati no cioè quindi in una città in una strada con altri agenti ehm e però è molto complicato arrivare al livello no cioè io per esempio lavoro a Napoli eh guidare con una macchina fare guidare una macchina autonoma eh per le vie di Napoli rispettando no tutte le regole scritte non scritte del traffico locale eh è abbastanza un'impresa che va ben oltre il test di Turing ok eh però allora quale quale diventerebbe la direzione per avere le macchine autonome semplicemente eh imbottire le strade di sensori e togliere completamente dalla macchina il guidatore farlo diventare semplicemente un passeggero per esempio questo si può fare nelle autostrade e si sono magari uno può creare delle autostrade dedicate soltanto alle macchine autonome che a quel punto si possono tra loro eh organizzare questo significa che la macchina è autonoma ma in un ambiente strutturato per altre macchine autonome e quindi l'uomo eh perde la capacità di guidare la macchina questo è un esempio nel concreto di quella che può essere la direzione eh di questa spinta verso la digitalizzazione quindi da una parte c'è l'intelligenza artificiale che può in effetti e si avvale sempre di più dell'ambiente digitale e cresce nell'ambiente digitale però c'è anche la spinta a eh digitalizzare tutto e quindi gli spazi di libertà per l'uomo possono proprio restringersi in questo in questo senso eh stessa cosa per esempio sì scusami scusami se ti ho se ti ho interrotto eh se mi permetti visto che è stato è è è siamo ha incantato sicuramente chi ha ascoltato questa puntata come me perché sicuramente hai eh riempito lo spazio che che immaginavamo di riempire con questo discorso in modo perfetto andando a colmare quello che era un tassello che come ti dicevo con Claudio avevamo riservato questo appuntamento eh dovendo chiudere mi permetti tanto ti ringrazio per la per il regalo che hai fatto a me che ci ascolterà al canale del tuo video alla nostra serie Roncall perché è un intervento di di pregno estremamente pregno ma altrettanto chiaro quindi anzi ora me lo riascolto perché spero spero che sia chiaro eventualmente no quello sicuro quello sicuro mi permetti ironicamente senza sminuire di chi osare in questo modo forse allora il il primo in attesa che la macchina sia qualcos'altro che un semplice algoritmo una semplice macchinetta come diciamo spesso con con Claudio eh il primo problema dell'intelligenza artificiale forse è l'intelligenza umana o meglio come l'intelligenza umana e le strutture umane utilizzano la stessa intelligenza forse dovremo più che della fantascienza guardarci guardarci forse da da noi stessi sì 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 no 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 assolutamente assolutamente poi tenendo presente che però eh appunto forme di intelligenza artificiale qui apro forse un altro capitolo però chiudo subito sono anche le grandi organizzazioni che hanno dei loro diciamo procedure automatiche ok quindi noi siamo già immersi in qualcosa che è un'intelligenza artificiale no che può diventare kafkiana o non kafkiana ok quindi il problema eh semmai è cercare proprio nel eh nella simbiosi che c'è tra eh questa digitalizzazione eh la convergenza di tecniche di intelligenza artificiale che hanno intrinsecamente purtroppo questa opacità che si eh che può eh quindi il problema del fatto che non si conoscono bene i modelli e dietro questa opacità ci si possono nascondere tante cose eh c'è bisogno di meccanismi non soltanto di governance che sono che possono essere eh cioè non soltanto di legislazione che possono diventare lettera morta ma servirebbe qualche meccanismo di controllo incrociato non so qualcosa che eh metta gli interessi eh magari in competizione e che dia spazio anche ai cittadini eh per esempio non so il fatto di non essere completamente eh proiettati verso il digitale offrire rendere più difficile la vita ai al a queste macchine no che che stanno evolvendo in questo ecosistema digitale ma permettere di staccare la spina di avere una vita anche eh rapsodica che passa dall'artificiale al naturale eh oppure spazi anche di grande per esempio eh privacy cioè perché la tecnologia mette a disposizione anche la praga gli strumenti di privacy immaginiamo il discorso delle criptovalute no? Lì tutto si gioca invece sulla eh tutela della privacy sul non tracciabilità quindi eh secondo me eh quello che se veramente ci fosse un interesse alla libertà delle delle persone bisognerebbe mettere insieme questi due aspetti la tutela magari della privacy e quindi spazi eh che non che consentono di interrompere questa tracciabilità e poi lo sviluppo invece di queste tecnologie che eh devono essere mantenute sotto controllo non soltanto con la legge ma anche con il contrasto degli interessi magari con tecniche di antitrust infatti per esempio gli americani su questo hanno insistito di più nel loro executive act sull'intelligenza artificiale cioè hanno messo in evidenza anche gli aspetti di ecosistema e di come eh magari tutelare una certa competizione per impedire perché l'altro aspetto è che se ci sono qualcuno a posizione di dominanza prima o poi ne approfitterà cioè io non bisogna mai fidarsi no del fatto che della benevolenza altrui cioè bisogna sempre creare un sistema in cui gli interessi siano in equilibrio in qualche modo questa è va bene Alberto io non posso che ringraziarti ancora ma a questo punto timidamente a questo punto lascio la porta aperta per ulteriori chiacchierate perché sicuramente avrai contenuti eh evidenti chiaramente la materia eh per poter approfondire prendere altre stanze no andare a sondare altri altri magazzini di idee perché penso che il tema sia talmente ampio che farsi accompagnare le persone come te è sempre gradevole per cui rinnovo l'invito per un futuro incontro e ti ringrazio di cuore ancora per la per la splendida puntata che ci hai regalato va bene grazie a te grazie per l'invito e buona a prestissimo a presto buon proseguimento ciao che cosa è Genezia? Genezia è una città immaginaria e dunque ve la immagino un po' come voglio io di notte durante un blackout è un diluvio nera nottefone è lo spazio che la accoglie che la descrive è il mio romanzo d'esordio lo trovate su amazon a presto a presto a presto